Come va? E bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il video, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. In questo video parliamo prevalentemente di luce, gas, benzina, buoni, bonus, voucher, 250 euro, 200 euro, 450 euro... Insomma, parliamo di tutte le agevolazioni che riguardano proprio questo tipo di spese. Luce, gas e benzina. Partiamo subito dal taglio del costo della benzina, del gasolio e del GPL per le auto e per i veicoli a motore, insomma. In questi giorni il nostro governo sta discutendo sulla proroga del taglio da 25 centesimi delle accise, che in realtà sarebbero 30,5 centesimi complessivi, IVA compresa, per ogni litro di benzina o gasolio o GPL. Quello che si sta pensando di fare è di non far scadere questa iniziativa, ma di renderla definitiva per altri due mesi e quindi fino al 30 di giugno. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ci dice così, e vi leggo testualmente le sue parole. La dinamica dei prezzi dei carburanti resta un tema di primo piano, su cui è massima l'attenzione del governo che proseguirà implementandola nell'attività di monitoraggio, oltre che nella valutazione delle misure necessarie a calmirare i prezzi, fra cui la proroga del taglio delle accise disposta nell'ultimo decreto legge. Come vi ho detto nell'inizio del video, proseguiamo le notizie con luce e gas. Quindi ci sarebbe una novità in arrivo proprio sul bonus luce gas di casa e per averlo è semplicissimo. Quindi un'altra novità raguarderebbe proprio i bonus luce gas. A oggi si ha diritto ad avere questo bonus automaticamente e soprattutto ne ha diritto chi riceve il reddito di cittadinanza. Ma l'idea di fondo è quella di ampliare le persone che ne possono avere diritto, per chi ha i giusti requisiti ISEE e presenta la DSU. Così cosa succede? Per contenere i prezzi di luce e gas, il nostro governo nei giorni scorsi ha approvato un provvedimento che darebbe la possibilità a molte più persone di usufruire gli sconti in bolletta, che poi in definitiva si chiama bonus sociale. Per ora il periodo sarebbe compreso tra il primo di aprile e il 31 di dicembre e ad oggi la possibilità di avere questo bonus è stata ampliata grazie anche al fatto che hanno aumentato il tetto dell'ISEE, che passa dagli attuali 8.265 euro ai nuovi 12.000 euro all'anno. E per avere accesso al bonus è semplicissimo. Quindi basta fare solamente l'ISEE oppure avere diritto al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza. Quindi dopo aver inviato l'ISEE, l'IMS seleziona tutte le persone e le famiglie che ne hanno diritto e invia i loro dati direttamente all'ARERA, che poi comunica a sua volta tutti questi dati a tutti i fornitori di luce e gas. E poi a quel punto i fornitori di luce e di gas faranno direttamente lo sconto in bolletta. Siccome molti di voi mi state chiedendo o mi chiedete ogni volta che appunto vi parlo di questo sconto di luce e gas, mi chiedete come faccio io a sapere, devo fare domanda, ne ho diritto, non ne ho diritto. Allora intanto i requisiti ve li ho appena elencati, vi ho appone detto appunto i requisiti ISEE. E soprattutto per verificare se avete avuto il bonus o lo sconto in bolletta, chiamatelo come volete, basta semplicemente prendere la prima pagina della fattura, cioè la prima pagina della fattura appunto del vostro fornitore di luce e gas e verificare se nei dati che vedete davanti c'è applicato lo sconto. Non tutti vi dicono lo mettono subito nella prima pagina, qualcuno lo mette nella seconda o addirittura nell'ultima pagina nelle note, quindi dovete guardare o la prima basso a sinistra oppure nella seconda oppure nell'ultima pagina. E se pensate comunque di averne diritto basta semplicemente telefonare al vostro fornitore di luce e gas e chiedere mi avete fatto lo sconto in bolletta? Molto semplicemente. Voglio solo aprire una parentesi e dirvi gli orari e i giorni delle mie dirette live. Io vado in onda in diretta live il giovedì sera alle 9.15 sul mio canale di YouTube, ci possiamo vedere faccia a faccia. E poi il sabato e sera, sempre alle 9.15 sul mio canale di YouTube, la Premiere Live con la rassegna stampa. Quindi vi leggo le notizie della settimana. Qui con me ho già il giornale di questa settimana, quindi tenetevi forte, prenotatevi appena vedete la locandina, prenotatevi subito per l'anteprima della Premiere Live, così non perderete anche lì le notizie della settimana dei giornali. Chiusa parentesi, proseguiamo con la benzina, come avere fino a 458 euro di bonus dallo Stato, ma tramite un meccanismo un po' particolare. E lo vediamo adesso. Per contrastare il forte aumento del prezzo della benzina, nelle scorse settimane il governo ha approvato un decreto che prevede dei buoni carburante fino a 200 euro. Questi buoni bonus da 200 euro sono riservati però ai dipendenti delle aziende private e sarebbero dei voucher che servono per l'acquisto del carburante. Il bonus quindi non può essere richiesto dal dipendente, ma deve essere l'azienda che decide se darlo oppure no. Il governo ha anche chiarito che tutte le aziende che daranno il voucher ai propri dipendenti non pagheranno nessuna tassa su quei voucher o bonus, chiamateli come volete. Come ho detto prima, i voucher li possono dare solo le aziende private e quindi sono esclusi tutti i dipendenti del settore pubblico e tutti i lavoratori con la partita IVA. Inoltre adesso l'Agenzia delle Entrate dovrà anche chiarire un altro punto. Però sembrerebbe che il nuovo voucher sarebbe cumulabile ai 258 euro di benefici che sono già previsti per i dipendenti e i buoni benzina potrebbero così sommarsi e arrivare a una cifra di circa 458 euro. Bene, con questo è tutto, ti ringrazio per avermi guardato. Se hai delle altre richieste di video fammelo sapere qui sotto nei commenti e come sempre iscriviti al mio canale di YouTube, attiva anche la campanellina così non perderai nessuna prossima novità. Ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto, ciao!